Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un gesto di trasparenza e coraggio, la principessa del Galles, Kate Middleton, ha condiviso un video personale che illumina il suo attuale viaggio di guarigione dopo la diagnosi di cancro, segnando un momento di apertura senza precedenti nella storia della famiglia reale britannica. In questa intima rivelazione, Kate svela che a seguito alla scoperta di un tumore dopo un'operazione chirurgica all'addome avvenuta a gennaio, le è stato consigliato di iniziare un ciclo di chemioterapia preventiva. Affrontando con resilienza questo difficile percorso, la principessa esprime il suo stato d'animo con forza e speranza, sostenuta dall'incondizionato amore e supporto del marito William, dei loro figli, e dell'ampio sostegno ricevuto da ammiratori in tutto il mondo. La comunicazione di Kate non nasconde le sfide emotive e fisiche affrontate, sottolineando come il sostegno della sua famiglia e l'incoraggiamento ricevuto abbiano giocato un ruolo cruciale nel suo percorso verso la guarigione. Kate riflette sull'impatto della malattia sulla vita familiare, condividendo il delicato processo di spiegazione ai loro bambini, George, Charlotte e Louis, in modo appropriato, trasmettendo un messaggio di speranza e forza. La principessa riafferma il suo impegno a concentrarsi sulla guarigione olistica, mirando a rafforzare mente, corpo e spirito ogni giorno. Mentre la famiglia reale affronta le proprie sfide di salute, con la recente diagnosi di cancro anche per recarlo, la solidarietà e la resilienza diventano temi centrali. Kate Middleton, con la sua grazia e coraggio, non solo naviga attraverso queste prove personali, ma emerge come simbolo di speranza e forza, per tutti coloro che affrontano battaglie simili, dimostrando che anche nelle difficoltà più grandi, la forza dell'amore e del supporto può fare la differenza. Facciamo i nostri migliori auguri a Kate per una veloce guarigione. Grazie